Oggi parliamo di endometriosi, una patologia che colpisce il sesso femminile in periodo riproduttivo. Questa condizione è caratterizzata dalla presenza di mucosa che normalmente riveste la cavità uterina al di fuori dell'utero. Prevalentemente si riscontra questa mucosa nella pelvi, sulle ovaie, nello spazio retrouterino, ma talvolta anche a carico dell'intestino, degli ureteri, della vescica e in rari casi anche a carico della pleura e del polmone o altri organi. L'endometrio è la mucosa che sfalda mensilmente e che, in assenza di un concepimento, dà luogo alle mestruazioni e che in piccola parte fuoriesce attraverso le tube e raggiunge la pelvi. In circostanze favorevoli questi frammenti di mucosa, ancora vitali, riescono ad impiantarsi e a creare una reazione infiammatoria cronica che dà luogo ad aderenze, cicatrici, noduli, placche e sulle ovaie cisti che contengono un liquido piceo che viene definito liquido cioccolato. Questa condizione è generalmente associata, anche se non sistematicamente, a dolori pelvici sotto forma di dolore mestruale, dolore ai rapporti, dolore alla defecazione ed infertilità. La patologia colpisce una percentuale variabile dal 5 al 10 per cento della popolazione generale, come abbiamo detto, in periodo fertile, poiché è molto raro trovare questa patologia prima della menarca e rarissimo trovarla dopo la menopausa. Le modalità diagnostiche sono sostanzialmente basate sulla raccolta di una corretta anamnesi, su un esame fisico ben condotto che possa identificare zone di tessuto addensato, di noduli, di placche estremamente dolenti in genere e cisti annessiali e sull'ecografia che è estremamente affidabile nell'identificare non soltanto la presenza di una cisti ma la natura di una cisti e recentemente si è dimostrata molto affidabile anche nell'identificare le placche a carico dello spazio sia retroterino, quindi le cosiddette lesioni rettovaginali, che le lesioni che colpiscono la vescica, l'endometriosi vescicale. È stata suggerito l'uso della risonanza magnetica nucleare in alcune circostanze, tuttavia non vi sono dimostrazioni che questa metodica certamente più costosa fornisca una possibilità di diagnosi superiore ad una ecografia ben condotta. Il cosiddetto gold standard per la diagnosi di endometriosi è la laparoscopia, cioè un'indagine endoscopica che viene condotta con l'inserimento di una sonda attraverso l'ombelico e che permette la visualizzazione degli organi pelvici e nel contempo il trattamento delle lesioni endometriosiche. Nonostante ciò non è detto che in tutti i casi in cui la malattia è sospettata debba essere necessaria una laparoscopia per arrivare alla diagnosi. È oggi dimostrato che la possibilità di effettuare una diagnosi non chirurgica è molto alta e quindi il ginecologo deve riuscire ad arrivare a pensare alla possibilità di questa patologia e a diagnosticarla senza necessariamente ricorrere ad un intervento chirurgico che verrà riservato, a parte rari casi, verrà riservato ad una scelta terapeutica più che a una modalità diagnostica. Come possiamo trattare la malattia quando dà disturbi? Abbiamo sostanzialmente due scelte, una scelta medica, un trattamento medico e un trattamento chirurgico. Ciò non toglie che in alcune circostanze sia praticabile la semplice osservazione. Infatti non tutte le forme di endometriosi costituiscono una vera propria patologia oppure danno luogo a sintomi. Vi sono diverse manifestazioni e andiamo dalle forme più lievi, probabilmente una forma quasi parafisiologica. Teniamo conto infatti che negli ultimi decenni il numero di mestruazioni è sostanzialmente aumentato rispetto a solo 50-60 anni fa ed oggi le donne abitualmente mestruano 6, 7, 8 volte più delle nostre bisnonne o trisnonne. E questo certamente è un fattore che ha un effetto, ha un impatto sulla probabilità di sviluppo della malattia, ma quando si tratta solo di forme molto lievi che non danno disturbi non è detto che sia necessario alcun trattamento. Il trattamento medico è generalmente riservato alle donne che hanno dolore perché sfortunatamente non vi sono prove che i trattamenti medici facilitano il concepimento nelle donne infertili. I trattamenti medici impiegano farmaci che inibiscono l'ugulazione e tendenzialmente riducono il livello di estrogeni che stimolano sia l'endometrio all'interno dell'utero che l'endometrio al di fuori dell'utero e quindi l'endometriosi. Oggi le scelte, le prime scelte, le scelte più sicure, più economiche, più maneggevoli, sono associate all'impiego di progestinici o progestinici, la classica pillola contraccettiva, scegliendo preferibilmente i dosaggi più bassi. Questi farmaci possono essere continuati a lungo per molto tempo in sicurezza e danno un ottimo risultato sulla sintomatologia dolorosa. Sostanzialmente almeno due terzi delle donne con endometriosi sintomatica trovano beneficio dall'impiego di questi farmaci. Vi sono poi altri farmaci, tra i quali ad esempio i GNRH agonisti, che inducono una cosiddetta menopausa medica, una castrazione medica, che vanno però usati soltanto in circostanze molto specifiche e tendenzialmente non usati per lunghi periodi di tempo. Il trattamento chirurgico è riservato alle donne che hanno voluminose cisti ovariche, che hanno un coinvolgimento dell'apparato urinario e dell'apparato intestinale, che capita stenosi dell'intestino e stenosi uriterale, o che hanno ad esempio una lesione vescicale. In questi casi la laparoscopia è oggi in grado di affrontare con successo tutte queste situazioni senza più ricorrere ad interventi invasivi, quali la laparotomia. Per quanto riguarda l'infertilità abbiamo la possibilità sia del trattamento chirurgico, che è associato certamente ad un miglioramento delle probabilità riproduttive, anche se non nella totalità dei casi, sfortunatamente, oppure abbiamo la possibilità di ricorrere alle procedure di fertilizzazione assistita ed in particolare alla fertilizzazione in vitro. Infine è stato segnalato un lieve aumento di possibilità di sviluppare un carcinoma epiteliale dell'ovaio nelle donne affette da endometriosi pelvica e questo probabilmente è associato a questa condizione di infiammazione cronica che accompagna queste donne nel giro del periodo riproduttivo. Tuttavia la buona notizia è che è stato dimostrato che un lungo periodo d'uso di una pillola contraccettiva riduce il rischio sostanzialmente addirittura a livelli inferiori al rischio della popolazione generale femminile che non abbia mai usato la pillola contraccettiva.